Buongiorno, saluto i promotori della Conferenza Nazionale sui dispositivi medici and Digital Solutions for Health, i magnifici rettori e il generale Carra che interverranno dopo di me, i relatori e tutti i presenti. Sono lieto di contribuire a questo importante momento di confronto in un settore centrale nell'ambito del sistema sanitario nazionale e sulle opportunità che l'innovazione e lo sviluppo tecnologico offrono alle nostre capacità di cura e assistenza. L'efficientamento del Servizio Sanitario Nazionale infatti passa anche attraverso il ricorso all'innovazione tecnologica, al potenziamento del patrimonio digitale delle strutture sanitarie e la migliore qualità dei dispositivi medici. Il Ministero della Salute è costantemente impegnato a livello nazionale e comunitario affinché si offerta ai cittadini la fruibilità di dispositivi sicuri e di provata efficacia, sempre con un particolare attenzione allo sviluppo tecnologico. Qualsiasi prodotto che si voglia classificare come dispositivo medico infatti deve essere accompagnato da un adeguato set di informazione che evidenzino in maniera chiara i risultati della relativa indagine clinica. La diagnostica, la terapia, la cura non possono prescindere dall'impiego di dispositivi medici che, se da un lato sono prodotti consolidati nelle loro caratteristiche, dall'altro sono in continua evoluzione. A titolo esemplificativo si pensi a come lo sviluppo della telemedicina preveda l'impiego di dispositivi medici che tanto i pazienti quanto i sanitari possono utilizzare quotidianamente. O ancora ai software e alle app che consentono di misurare con facilità e in tempi contenuti una serie di parametri utili per monitorare la salute dei pazienti. Ci sono poi campi come quello delle cosiddette terapie digitali suscettibili di enormi sviluppi. Dunque si tratta di temi estremamente rilevanti che richiamano tutti a una prova di maturità, estremamente ambiziosa da affrontare con decisione, competenza e fiducia. Grazie e buon lavoro.